In Italia c'è sempre più riso seminato in asciutta, la tecnica della semina interrata. Siamo nelle Vercellese, a Greggio con Lorenzo Frattino, risicoltore. A volte ci si misura con delle infestanti veramente dignose. Quando un giavone è particolarmente sviluppato, lei cosa fa? Di sicuro utilizzo il nominè, però in certi casi quando i giavoni sono molto sviluppati è consigliabile una miscela con del Quinclorac. E' anche vero che il nominè è utilissimo per una lotta all'infestante denominata Murdannia, che è una relativamente nuova conoscenza, è così? Da noi qui in Baraggia si è sviluppata molto ed è molto aggressiva, tanto da portare a della perdita anche di produzione. Quindi l'unico prodotto veramente efficace è il nominè e lo consiglio a tutti.